Grazie a tutte le persone che effettivamente, come diceva la nostra Luisa, hanno creduto in questo progetto. Io spero che sia un progetto duraturo e che quindi lo vedremo anche per i prossimi anni. Quindi voglio augurare a tutti voi, oltre il benvenuto a San Bonito Sanilio, in questa location bellissima, questa cordice ormai straordinaria e caratteristica, voglio farvi tantissimi auguri e spero anche che vi possa portare tanta tanta fortuna. Grazie a tutti. Direttamente da Santa Maria Rico, gli abiti dell'atelier Tonis Fur. Grazie a tutti. Signore e signori, gli abiti dell'atelier Tonis Fur. E a questo punto è d'obbligo per me invitare qui Antonio Ettore, nipote e tio, fondatore e continuatore della tradizione familiare. Siamo da quasi 50 anni, genera di dare tante cose, nel latta moda, la più grande sartoria, ancora a mano si cucino gli abiti, si fa il legame al colattelaio, chi ha il proprio esigenzo, un prodotto di qualità unico ed esclusivo. Signore e signori, direttamente da Roma questa sera, ma in generale da qualsiasi parte del mondo, qui al Centro Polifunzionale per lo Sviluppo del Territorio di San Potito Sanitico, l'incantevole Anna Falchi. In compagnia della splendida Anna Falchi, benvenuta. Questa sera, in veste ufficiale di madrina dell'evento Matese Sposi, giunto all'edizione 2017. Sì, anche il matrimonio è un tema in cui mi vedo spesso protagonista, perché io comunque conduco una trasmissione proprio su un canale tematico che è Donna e Sposa. Ho fatto due programmi televisivi, Wedding Fashion World, e appunto Sei Donna, ma soprattutto Wedding Fashion World, dice la parola, dedicato al mondo degli sposi. Abbiamo accompagnato in una gara molto divertente i futuri sposi, e quindi conosco bene questo settore, spesso vi partecipo e incude sempre molta curiosità, perché poi cambiano le mode, le tendenze, così, e quindi è sempre molto divertente. Poi c'è sempre questa atmosfera romantica, anche il pubblico che viene ha sempre uno sguardo così sognante, e così, secondo me, questi tre giorni saranno stati giusti per avere le idee ben chiare per coloro che venderanno i prodotti, che venderanno tutto quello che è inerente al mondo del matrimonio, ma soprattutto per le giovani copie che si prestano appunto questo grande passo. Io la ringrazio Anna e le faccio i miei più vivi complimenti, e le in bocca al lupo per il lavoro, insomma, che si apprezzerà a fare nei prossimi mesi. Un saluto a tutti coloro che seguono CDL e Venti, questa volta anche con me. Un bacio e auguri a tutti, visto che siamo verso Natale. Grazie a tutti.